e poi attendere la seconda per il miglior scala 217.19 Sera e seconda, stai lì anche qui signori come timorammatica bellissimo applauso a queste attende bravissime e ecco qui buona sera buona sera espertissima altro che superare in seconda la sera lì è terza quando ci avviciniamo all'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro la vediamo anche sullo schermo eccola con finale vai applauso Vai fare! Vai, buco anni, buco qui!